Francesco Arena, Country Manager di BetPro per un SPT che è ormai un must. Come un must a nivenendo BetPro? In un panorama del mondo online che muta di giorno in giorno, BetPro è un riferimento? Sì, abbiamo sposato come ben sai e come sanno chi ci sta vedendo, abbiamo sposato a pieno il progetto SPT, ci è piaciuta da subito questa nuova formula, questo nuovo modo di vivere il poker. Come ben sai, BetPro sin dall'inizio ha cercato di differenziarsi nelle proprie iniziative, quindi ha sempre cercato di trovare una connotazione diversa all'interno del mercato e ha sempre cercato di trasmettere le emozioni del poker in maniera un po' differente. e SPT sicuramente è un progetto che ci ha fatto avvicinare proprio per questo nuovo modo di vivere il poker che permette con un buy-in ridotto di accedere a monte premi sicuramente interessanti. Quindi assolutamente questa è già la seconda tappa, dopo la terza considerando il warm-up. Stiamo vedendo il successo in termini di numeri, nel senso che tappa dopo tappa i numeri vanno sempre più a crescere. Inizialmente forse era un po' complicato comprendere anche la formula del torneo in termini di divisione dei premi, però adesso sta iniziando a prendere i piedi e siamo assolutamente contenti di aver sposato questo progetto. È un torneo europeo, European Synchronized Poker Tournament. Si parla tanto per quanto riguarda il mondo del poker, voi ovviamente siete una punti.t con licenza dei monopoli di Stato, punti.t appunto, però si parla tanto di liquidità condivisa, di punte.eu, di avere una realtà europea per dare ulteriormente spinta a questo mercato. Che ne dici? Sinceramente sono d'accordo, nel senso che chiaramente il poker, ma così come tutte le industrie di qualsiasi campo, hanno bisogno di competitività del mercato. È chiaramente un mercato chiuso, quindi legato esclusivamente al territorio nazionale, e dopo qualche anno rischia una flessione dei numeri. Quindi ritengo anche io che il fatto di aprire le barriere, quindi trovare anche degli accordi tra gli Stati europei per delle liquidità condivise, sia una buona formula intanto per riattivare il nostro settore nel quale operiamo. E poi dare uno stimolo anche in più ai giocatori, che chiaramente si trovano necessariamente con modi di giocare sicuramente diversi, perché sai benissimo che a seconda del paese ci sono anche modi di giocare decisamente diversi, quindi può essere una cosa che va sicuramente anche a favore del giocatore. Il profumo d'Europa lo sentiremo già a Wembley, perché questo gran finale, 31 maggio, 1 giugno, sarà in questo mitico stadio. Non vediamo l'ora, non vediamo l'ora perché sarà sicuramente un'esperienza unica, non solo per i giocatori ma probabilmente anche per chi organizza l'evento stesso. Giocare in una location mitica, perché di questo si tratta, è sicuramente un sogno per tutti quanti ed è soprattutto una grande innovazione che credo tutti stessero aspettando, quindi davvero non vediamo l'ora che arrivi in questo momento.